In Francia ora, dopo la notte della vittoria, Emmanuel Macron si prende una giornata lontana dagli impegni pubblici, ma già pensa al futuro. Risponderò alla rabbia del paese, ha detto nel suo discorso. Il prossimo appuntamento sono le legislative di giugno. Allora andiamo in diretta dalla corrispondente Nicoletta Manzione. Una vittoria netta per Emmanuel Macron. Infatti il Ministero dell'Interno francese ha diffuso i dati definitivi del ballottaggio che vedono Macron con il 58,54% dei voti. Marine Le Pen ferma il 41,46%. Il prossimo appuntamento in agenda per Macron è mercoledì con la riunione del Consiglio dei Ministri e la preparazione di alcuni atti per il passaggio al secondo mandato, mentre oggi è stata una giornata lontana da Parigi di relax e di lavoro silenzioso, lontano dalle feste dell'entusiasmo di ieri. Vediamo il servizio. Corre via nella notte.